La variante allo strumento urbanistico generale di iniziativa pubblica al sistema produttivo della piana del fiume Entella, impugnazione delibera della giunta regionale 475 del 26 maggio 23 ha vinto all'oggetto approvazione di variante con prescrizione al vigente PRG di zona SP1, zona per strutture polifunzionali lungo Entella. Poniamo in votazione la delibera, chi ha a favore? Chi si astiene? Nessun contrario. Accettare questa delibera vuol dire alla fine dare definitivamente via libera a quello che si sta poi già realizzando, cioè dare quasi un benestare a quest'opera. Credo che sia opportuno procedere con l'impugnazione di questa delibera per far sì che perlomeno si provi a trovare una soluzione. A mio avviso era assolutamente dovuto il fatto di impugnare questa delibera regionale per un motivo di coerenza su tutto il percorso dell'amministrazione e di tutto il Consiglio in questi anni. Ora si propone con questa delibera di non accettare le prescrizioni regionali, di impugnare la delibera. In assenza dell'accettazione della prescrizione della regione non è possibile porre il vincolo di salvaguardia per l'area agricola dell'Entella. Questo sembra essere il risultato delle iniziative che sono state portate avanti fino ad oggi. Le opere del primo lotto vanno avanti e anche se la delibera odierna si è accolta non permetterà di porre il vincolo agricolo paesaggistico sulla piana. Quindi noi già staremo da adottare questa delibera. Proprio perché riteniamo veramente di valore la piana dell'Entella noi non condividiamo ovviamente la vostra scelta ma condividiamo la necessità di salvaguardia della piana e per questo ci assegniamo. Con tutte le giuste prudenze e attenzione del caso votare questa delibera sia assolutamente opportuno per coerenza ma anche perché non è detto che finalmente coloro che sono stati responsabili in vario modo, in varie fasi di questo scempio prima o poi non ne debbano loro subire le conseguenze e non sempre noi lavagnesi. Di quale delibera si tratta? Regione Liguria aveva effettuato la verifica sulla delibera del Consiglio Comunale con cui era stato imposto e posto il mantenimento del vincolo agricolo sull'area. Faccio presente che questa delibera è molto importante per la mia amministrazione perché non solo rientra nell'ambito del procedimento sulla posizione del vincolo paesaggistico ma mantiene una destinazione agricola di un'area che addirittura potrebbe diventare residenziale qualora fossero completate gli interventi relativamente all'opera denominata Diga per i figli. Non si tratta solo di una contraddizione, si tratta di un qualche cosa di più importante. Con quali motivazioni la impugnate? Allora, la impugniamo con una motivazione fondamentale perché la Regione Liguria dice va bene, abbiamo preso atto che volete mantenere la destinazione agricola ma vengono fatti salvi tutte quelle che sono le conseguenze dell'opera che è volta al contenimento per la Regione Liguria e per la Città metropolitana del rischio idraulico. Quindi vorrebbe dire d'accordo manteniamo la destinazione agricola dell'area ma praticamente facciamo salvi gli effetti della Diga per i figli. E allora, siccome è proprio il presupposto sulla base del quale noi abbiamo sempre dichiarato la nostra contrarietà l'inutilità dell'opera perché sappiamo perfettamente che è un'opera non collegata e correlata con altri interventi è proprio una contraddizione di fondo e non potevamo non andare a impugnare queste indicazioni che ci sono state indicate da Regione Liguria. Oltre che contraddizione di fondo, come la possiamo definire questa situazione? È un continuo e inusitato braccio di ferro perché continuano a far entrare da tutte le possibili vie il riconoscimento da parte del Comune della validità della Diga per figli fatto che non riconosceremo mai perché ne contestiamo in radice gli effetti. Questo azzererebbe in realtà tutto il lavoro che l'amministrazione ha fatto fino ad oggi a tutela sia della Piana che anche del Seggiun, diciamolo. E praticamente vorrebbe dire validare che tutto quello che è relativo alla costruzione della Diga per figli viene accettato e accolto dall'amministrazione comunale di Lavagna e noi siamo su una posizione radicalmente opposta e lo ribadisco ancora una volta. Quindi come vi siete mossi? Che tipo di risposta avete dato alla Regione motivando l'impugnazione? Abbiamo motivato l'impugnazione sulla base di due richieste di riconoscimento di una violazione per un eccesso di potere e falsità dei presupposti e al tempo stesso per un eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione secondo quanto il nostro legale, l'avvocato Cocchi, ci ha indicato. Ecco, su il vincolo, il famoso vincolo, a che punto è? Non ha mai avuto una formalità definitiva da parte della Regione perché la Regione in un qualche modo lo va a condizionare a questo passaggio quindi è il modo che ha trovato per non andare a completare un rilascio di un vincolo che ormai ha completato ogni percorso e ogni formalità procedurale. Quindi a questo punto si ricorre a? Si ricorre al TAR per vederci riconosciuti i diritti di un vincolo che è oggettivamente rilasciato e a tutti gli effetti perfettamente vigente per l'esistenza della clausola di salvaguardia che comunque passa sopra tutte queste, diciamo, manfrine procedurali. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!